ciao allora oggi volevo aprire con voi questo pacco che mi è arrivato da bottega verde perché non avevo mai provato a fare gli acquisti online normalmente vado in negozio però mi stanno scadendo i punti della tessera e non sarei riuscita ad andare in negozio prima della scadenza e me ne mancavano davvero pochi per arrivare alla soglia successiva per avere un buono più sostanzioso e quindi ho provato a prendere online poi oltretutto ne ho approfittato perché nel weekend c'era uno sconto del 10 euro su tutti i prodotti anche quelli già scontati quindi ho detto proviamo allora intanto qui ho tutti i prodotti che ho solo aperto ma ho solo aperto il pacco ma non ho guardato niente con la fattura così ho i prezzi ho fatto l'ordine domenica ed è arrivato mercoledì quindi come spedizione ci siamo tempi di consegna la prima cosa che ho guardato però nella fattura c'è già scritto comunicazione al cliente gentile clienti come avrà notato uno più articoli dalle ordinati sono stati sostituiti perché non saranno disponibili per qualche tempo già questo vediamo cosa hanno sostituito e vi mostro prezzo alla mano che cosa allora il pacco era bello sigillato allora iniziamo ad aprire catalogo questo lo guardiamo dopo che è caduto per terra ma tanto un catalogo poi pubblicità giordano vini ci manca solo la pubblicità allora poi vediamo un altro po cosa c'è omaggio energia e creatività dietro al gancetto è carino vediamo se è disponibile per terra ma anche un altro po' di non riesco ad aprirlo è carino ok leggerino comunque sia carino come omaggio poi andiamo avanti vediamo altri immagini vanno bene sempre bene gli omaggi prodotto non destinato alla vendita beh ci arrivavano anche da sola sono omaggi allora campioncini di nocce e frutti rossi crema shampoo senza schiuma nutre e ravviva i capelli colorati mai provato e questo lo proverò poi goji perfect trattamento viso antirughe intenso compro artinolo questo da notte poi questo è un profumo camellia d'inverno e le toilette e avena crema mani delicate soggette a screpolature ah ho capito io avevo scelto veramente perché potevi scegliere i set di campioncini avevo scelto un altro tipo di set veramente ecco forse questo è quello che hanno sostituito speriamo solo questo perché devo ancora curiosare sugli altri speriamo sia solo questo allora poi ho preso shampoo mela verde aloe idratante tante lucentezza lunga durata senza parabeni e coloranti per capelli normali della linea è questa mi trovo molto bene ho provato gli altri non questo sa di mela verde davvero profumo è ottimo questo qui allora la confezione un 250 ml e l'ho pagato ecco c'era scritto allora il bracciale doveva essere con le pietre rosa e invece mi hanno mandato quello con le pietre gialle e è quello sostituito e il kit di bustine sostituito bene solo questi perfetto allora lo shampoo e l'ho pagato 3 euro e 99 poi andiamo avanti e ho preso trattamento antirughe con tornocchi anti borse occhiaia della linea goji perfect questo qui che apriamo questo così lo mettiamo a testare perché non l'ho provato e questo qua l'ho pagato sempre le diamo il mio mitico foglietto che potevano scrivere più grande comunque 12 99 perché era in promozione poi ho preso mitica creme da tanti per i piedi sì ebbene sì però questa è valida e mi piace 100 ml anche questo so che è in promozione 6 euro e 99 e poi dopo ultimo prodotto e questo l'ho voluto testare allora trattamento di strutturante istantaneo per capelli alla cheratina e cashmere senza parabeni e coloranti agisce in un minuto per i capelli fragili o che si spezzano dovrebbero essere esatto tre ampolline anche grandi ognuna è un 15 ml capelli fragili che si spezzano dice come usarlo vediamo allo pagato 7 99 il kit da tre ampolline dice di solo un minuto per donare nuova vita e capelli particolarmente rovinati fragili danneggiati modo d'uso ok dopo lo shampoo sui capelli umidi stendere il contenuto necessario su tutta la lunghezza ok massaggiare in modo a distribuire bene il prodotto lasciare in posa un minuto quindi risciacquare usare una o due volte settimana proviamo che dite proviamo vi farò sapere ma era in promozione e poi soprattutto ed è testare un prodotto che poteva anche curiosirmi quindi sono tre confezioni da 15 ml 7 99 in promozione era un buon prezzo e questo era tutto direi allora sono dovuto arrivare ai 20 euro di spesa perché è il minimo di acquisto e quindi ho preso un po di prodotti diciamo che questa era in promozione e incuriosiva questo mi incuriosiva questo mi serviva perché andiamo verso la stagione che ho bisogno di idratazione e ne ho approfittato per prendere anche questo stesso prezzo promozionale che trovo in negozio quindi ne ho approfittato per arrivare 20 euro che comunque erano 30 e qualcosa però e avevo 10 euro di sconto quindi andata ai 20 euro con la spedizione gratuita direi che e non posso dire niente perché è arrivato tutto tranne due cose che mi hanno sostituito ma gli omaggi sostituiti vanno benissimo il problema è se sostituiscono i prodotti in questo caso mi scoccerebbe un pochino e niente la spedizione è stata faccia rapida perché ho ordinato domenica che ovviamente hanno chiusi mercoledì è arrivato ho sempre avuto le notifiche di quando è partito poi quando ero in transito hanno spedito con sda che mi ha chiamato prima di per sapere se ero a casa quindi anche lui molto corretto imballato bene ed è sì positivo sicuramente preferisco sinceramente andare in negozio però in questo caso anche questo caso andava bene online per testare anche una spedizione diversa un modo d'acquisto diverso allora fatemi sapere se vi interessa qualcuno di questi prodotti e quale volete che testo per prima per farlo sapere a voi ed è se vi è piaciuto il video se vi è piaciuto un po di compagnia mi raccomando di mettermi un like iscrivete al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così vedete avvisate ogni volta che carico nuovo video e alla prossima ciao